Nuova impennata di contagi in provincia di Caltanissetta e anche in città. Sono 703 i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 229 a Caltanissetta ed era da un po' che non si vedevano questi numeri, Caltanissetta si era orientata sui 130 quotidiani. E intanto ci sono ancora tre decessi, sono pazienti che erano positivi al covid che hanno perso la vita, due di Gela e uno di Mazzarino. E intanto due nuovi ingressi in malattie infettive, due pazienti di Niscemi, uno di Butera, uno di Gela e uno di Serra di Falco e uno di Santa Caterina quindi aumentano notevolmente anche il numero dei ricoverati. E quindi per fare un bilancio complessivo possiamo dire che sono 72 i positivi ricoverati in malattie infettive, aumenta vertiginosamente il numero. E 5 invece ancora stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 5.375 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia.